con davy walk iniziamo con davy walk che ha scritto ok ragazzi questo è il suo canale ciao benvenuto sul mio canale tante tante sfide giochi guide soprattutto tanto divertimento tenterò sempre di ribaltare un bronzo in un sorriso ogni settimana un nuovo video da alle 10 alle 10 di brawl stars ok quanti punti esclamativi ora metti la sveglia che un nuovo video ti aspetta 100 iscritti 23 12 2020 500 iscritti no speriamo presto migli iscritti saliamo realisti siamo realisti 5.000 non accadrà mai è vedere un video live di il martedì giovedì e sabato dalle 21 alle 22 ok questi sono i suoi video la cosa bella chicco ha utilizzato come rende vabbè non dobbiamo flexare ok bug mega ping ping di mister p con quasi un milione di vita carceri p con quasi un milione di vita carceri